Rekoba va via, Rekoba, ordina il sinistro Rekoba, poi cambiasso per poi l'uomo in più, guardate qui, Rekoba salta l'avversario diretto, uomo in più, c'è un uomo centrale che deve essere, uomo libero e gol dell'1-0. Io penso sempre che Raggi stringa troppo la propria posizione. Calcio d'angolo, palla messa dietro, probassi attento. Calcio d'angolo di Rekoba, c'è Cagni che urla tantissimo, palla Alvaro, Elcino, Rekoba, direttamente da calcio d'angolo, come in pochissimi sanno fare. Lo ha fatto Mihailovic in carriera una volta, lo faceva Palanca forse ricorderete, ci provava Peron ma pochissimi segnano direttamente sul calcio d'angolo e quando si segna sul calcio d'angolo un po' la colpa è del portiere anche. Beh, ma è anticipato, perché qui sicuramente ha fatto gol sul calcio d'angolo, bene, però guarda il portiere cosa fa. Ha aiutato molto da Bassi. Eccolo qui, Elcino che la mette in porta e Bassi si fa nettamente sorprendere. Paperaccia di Bassi, però comunque il pallone era in porta. Sì, sì, no, sicuramente, ma sai, però era a centro porta. Lui fa un passo leggero per uscire, perché voleva andare a uscire. Uno contro uno, tra poco andremo da Andrea Paventi. Rekoba con il...